Il primo bacio di Lorenzo Uomini e donne, il primo bacio di Lorenzo Venerdì 23 novembre 2018 andrà in onda una nuova puntata del trono classico Uomini e donne, lamatissimo dating show di Maria De Filippi. Dopo l'appuntamento per la prima parte della settimana con il parterre delle dame e dei cavalieri del trono over, è giunto il momento di scoprire cosa succede ai cinque tronisti di questa stagione, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan González. Le anticipazioni. Lorenzo dopo aver tentato di conoscere Elisabetta, corteggiatrice di Luigi, in studio capisce che la ragazza in realtà non sembra davvero interessata, ma non è ancora chiara la decisione di Riccardi. Lascerà perdere davvero la bionda romana?. Dopo aver visto l'esterna di Luigi con Elisabetta, Maria Amanda in onda quella di Mastroianni con Irene. Luigi e la giovane ragazza sembrano davvero affiatati tanto che l'opinionista Tina Cipollari commenterà, Luigi come lo vedo con Irene non lo vedo con nessuna, scatenando la reazione di Elisabetta. . Il bacio inaspettato. Stando alle anticipazioni che circolano in rete sul trono classico, si parlerà anche della bella Teresa. . La ragazza sembra sempre più incerta circa la conoscenza con Andrea e Antonio, mentre con Luca c'è stato anche un avvicinamento dal punto di vista fisico. . Infine si torna a parlare di Lorenzo e si discute sull'assenza di Giulia, una delle corteggiatrici più discusse di questa edizione. . La sua corteggiatrice non è presente nello studio Elios di Roma per motivi personali, quindi il Riccardi ha deciso di portare in esterna Alice. . Infine viene mostrata l'uscita con Claudia, col quale è scappato un bacio a stampo. . Dove eravamo rimasti…. . Giovedì 22 novembre 2018 torna in onda l'attesissimo trono classico di Uomini e Donne. . 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 di non voler uscire con ragazze troppo più piccole di lui. Ivanni invece è uscito in esterna con una ragazza che è stata già sposata in giovane età ed è ora separata. Luigi e Lorenzo, una nuova corteggiatrice per entrambi. Il torno di Luigi e Lorenzo invece, sembra scandito da una corteggiatrice che entrambi desiderano, è il caso stavolta. Dopo Giada e Giulia, di Elisabetta. La romana arrivata in studio per corteggiare Lorenzo, deciderà di passare dalla parte del giovane siciliano. Per quanto riguarda Teresa, invece, Luca esprimerà alla tronista partenopea tutti i suoi dubbi su Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, infatti, oltre ad essere un ex corteggiatore dell'ormai ex tronista Mara Fasone, è anche un suo caro amico a cui avrebbe chiesto di troncare la loro amicizia. Che fine ha fatto Giulia? Giulia Cavaglia è una delle corteggiatrici più discusse di questa edizione. Attaccata spesso dal pubblico in studio e dal tronista, la giovane torinese deciderà di non presentarsi nello studio Elios di Roma a causa di impegni personali. Anche durante la settimana, il tronista e la corteggiatrice hanno litigato ma il Riccardi deciderà, naturalmente, di non mandarla via. Cosa c'è davvero tra i due?. Cosa c'è davvero tra i due?